Un impatto tremendo nel cuore della notte, due giovanissime vite spezzate a un maledetto incrocio di Catania, quello fra Corso Indipendenza e Corso 4 novembre. Proprio qui si è consumata fra le 2.30 e le 3 della scorsa notte la tragedia che ha portato via le vite di Salvo Giardino, 23 anni, e di Alfio Cuffaro, 18. Per cause ancora in via di accertamento, la moto su cui viaggiavano è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Ancora da chiarire se si tratta di un incidente autonomo o se siano stati coinvolti altri mezzi. Sul posto la Polizia Municipale di Catania, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Ma al personale sanitario intervenuto non è rimasto altro che accertare il decesso dei due giovanissimi. La dinamica dell'incidente con l'accertamento delle responsabilità sono al vaglio della Polizia Locale, ufficio infortunistica stradale. Saranno le telecamere dei servizi di videosorveglianza presenti nella zona a dare risposte ai tanti interrogativi che la tragedia ha sollevato. In particolare bisognerà accertare se un altro veicolo sia stato coinvolto, seppur marginalmente, nell'impatto e comunque se altri mezzi erano presenti al momento del sinistro. Grazie. Grazie a tutti.